Stefano Lupi, il delegato della provincia di Terni del CONI, nonché presidente dell'associazione Olio e Sacori, che organizza il torneo di prequalificazione agli internazionali di Roma, che si disputerà a Terni. Una grande vetrina per Terni e per l'Umbria, ospitare uno dei 21 tornei di prequalificazione che ha predisposto la FIT. Un bel evento, un grande momento di sport, forte partecipazione di atleti e di circoli coinvolti. Siamo orgogliosi e come CONI di sostenere questa iniziativa e come comitato organizzatore di proporre alla cittadinanza ternana questo sogno, ovvero daremo l'opportunità di giocarsi la chance per le qualificazioni internazionali d'Italia a tutti i tennisti che vorranno partecipare. Un momento di sport ed amicizia. Spero che i giovani atleti ternani, non solo, anche perché le iscrizioni stanno arrivando a tutte le parti d'Italia, possano trovare in questa competizione lo stimolo per fare di più e meglio.